Musica Musica Questa mattina la consegna della C3 al mister Bollini, segno di una collaborazione che continua tra Interauto e Salernità. La nostra collaborazione con la Salernità Nacarcio parte nella stagione 2007-2008, la stagione della promozione in serie B, quindi un fantastico ricordo sia per la società che per Interauto, quindi la Citroen. Oggi consegniamo la macchina al mister, quindi diciamo che noi siamo il motore della Salernità, motorizziamo i Granata e siamo sempre al fianco della società e degli sportivi in generale. La macchina in questione è la C3, quali sono le caratteristiche principali di questa vettura? Oggi la nuova C3 è il fiore all'occhiello della marchio francese, quindi della Citroen, è l'ultima nata e la vera novità nel segmento, è un'auto social a tutti gli effetti, infatti è l'unica auto social che possiede una telecamera che in effetti consente all'automobilista di poter postare foto e video direttamente sui social, quindi una vera novità, una vera rivoluzione. Per quel che concerne Interauto, dove si trova e qualche altra informazione utile? Noi vi invitiamo, siamo sulla zona industriale di Salerno, in via Terre di Saie, da noi trovate tutta la gamma Citroen e la gamma DS, compreso i veicoli commerciali e poi il reparto post vendita, quindi con vendita ricambi e assistenza.